Prima se ci dici le assenze certe nelle condizioni dei giocatori, poi ti chiedo, questa alternanza di risultati, anche a volte prestazioni, diventa destabilizzante anche per te quando devi lavorare? Le assenze Merchiorri non parte, gli Amic non parte, i Cremonesi parte, il resto sono rientrati, i risultati cambiano molto l'umore, perché quando pensi che le cose vadano un po' meglio, poi prendi la bastonata e quando ti aspetti tanto e prendi la bastonata fa ancora più male, è una sensazione che hanno tutti, quando sembra che il Perugia inizia a partire e dici stavolta è una volta buona, poi ti arriva l'ammazzata. Non cambia niente sul mio lavoro, cambia qualcosa anzi, perché l'umore anche dei giocatori cambia, perciò rimotivare dopo le botte che abbiamo preso ci vuole un pochino di più, ma botte perché facciamo vedere tante volte grandi cose e poi dopo cadiamo, non riusciamo mai a prendere il volo come tutti speriamo, tutto lì. Poi a volte i risultati vengono dall'avversario, a volte aiutiamo noi l'avversario, perciò col Verona è stata una partita dove l'avversario era forte, è stato forte, era una giornata molto positiva, ma noi eravamo sporchi, non lo so perché, forse avevamo fatto tre partite la settimana prima, l'anticipo di venerdì, posso trovare una spiegazione, una squadra che magari ha giocato meno rispetto a altre volte perché ha sbagliato molto per me col Verona e quando si sbaglia tanto una squadra come noi fa fatica a fare le partite, a correre dietro l'avversario e magari poi i risultati non vengono. Abbiamo visto settimana, come sempre penso, però il Presidente è abbastanza presente anche agli allenamenti, mi chiedevo, visto che pubblicamente lui è un po' più defilato ultimamente, mi chiedevo se è una presenza che è più forte del solito, se avete sentito qualcosa in più del solito, se ha parlato, se ha detto qualcosa alla squadra. Il Presidente come noi capisce l'importanza del momento, la stagione si decide adesso, perciò anche dopo la sconfitta ci è stato vicino, è stato molto positivo, ho parlato alla squadra in modo molto positivo, la squadra e anche io ho apprezzato molto, come noi anche lui si aspetta tanto, crede che questa squadra può fare molto, può fare di più nelle prossime dieci partite e lo credo fortemente anch'io, credo che questa squadra, anche se ogni tanto cade, è sempre pronta a ripartire, è in una posizione di classifica per me importante, dove ci sono qualche squadra che forse ha qualche problema più di noi, qualcuna che ancora, siamo lì, siamo tre o quattro squadre che ci dobbiamo giocare in quei due posti lì, due o tre, poi non si sa mai, magari andiamo più avanti, però a oggi se ci guardiamo intorno siamo quelle tre o quattro squadre che si stanno giocando, stanno più attaccate, poi se fai un filotto di quelli che magari tutti si aspettano, che però fa fatica ad arrivare, magari puoi pensare ad andare ad avvicinarti in altre posizioni, io credo che questa squadra possa fare un gran finale di campionato, perché è una squadra che ha qualità, che ha qualità e la fate vedere, magari non gli manca ancora, come tutto l'anno, la costanza nel ripetere le cose buone che fa, però io credo molto in questa squadra e in quello che può fare da qui a fine anno. Senti, che cosa c'è da temere di questo Padova? È una squadra che comunque pareggia molto, è molto attenta comunque nella fase difensiva, in casa è sempre abbastanza comunque ostica, non perde da molto tempo. Quello che c'è da temere in tutte le partite di Serie B, guardate il turno passato cosa è successo, Padova che ha vinto a Spezia, Cremonese che comunque è una grande squadra ma si trova laggiù, che ha vinto all'ultimo minuto col Benevento, è un campionato alla Serenitana che perde in casa, col Crotone, è un campionato che è molto equilibrato, che l'ultima in classifica può vincere con la prima, è successo e può succedere di tutto, perciò ogni partita ha una storia a sé, calcoli pochi, si preparano le partite partita per partita per essere molto efficaci in quella, previsioni o calcoli difficili.